13 di agosto buona giornata buon inizio di giornata le notizie la fanno da padrone ma non solo abbiamo ancora da salutare tanti nostri telespettatori che nel frattempo ci hanno scritto sotto il post della nostra diretta streaming sulla pagina facebook un saluto dunque a il va già ea roberto spadoni che augurano un buongiorno a tutti anche a coloro che non ci scrivono ma che fedelmente ci seguono e poi un buongiorno da anna di monte porzio che scrive buongiorno giacomo anche se io non sono giacomo e c'è ancora chi si scrive e chi scrive buongiorno giacomo 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 giampiere in ferie io non sono giacomo ma mi prendo volentieri il buongiorno che mi inviate e che ci inviate rido e scherzo senza nessun problema ma il buongiorno e l'augurio di una bella che sia una un bel martedì 13 agosto lo diffondiamo e lo facciamo nostro e poi lo rigiriamo a voi tutti insomma serve anche per prenderci con un con un po di ironia perché no abbiamo parlato tanto di notizie adesso vi propongo qualche servizio invece della redazione di etv in primo piano diffusamente nelle edizioni sia di ancona che di macerata c'è la storia della 14enne violentata a civita nuova nella notte tra martedì e mercoledì scorsi il fermo a carico di un nordafricano 25enne da parte dei carabinieri di civita nuova che hanno avuto modo di arrivare a lui tramite le immagini della video sorveglianza cittadina non soltanto quelle sul lungomare ma anche appunto in città ieri udienza di convalida davanti al GIP lui ha negato tutto si è collegato da remoto dal carcere di Pesaro dove si ritrova in questo momento con il suo avvocato però il GIP ha confermato il fermo e quindi resta il 25enne in carcere il riepilogo di quanto è accaduto nel servizio di Laura Meda sentiamo resta in carcere a Pesaro con l'accusa di violenza sessuale pluria aggravata perché commessa nei confronti di una minore il 25enne di nazionalità marocchina accusato di aver abusato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Civita Nova Marche di una ragazzina di 14 anni l'uomo l'avrebbe avvicinata in un bar di Civita Nova offrendole della cocaina lei avrebbe accettato e insieme si sarebbero allontanati dal locale per consumarla in un parco della zona una volta lì però il marocchino avrebbe preteso una prestazione sessuale in cambio della droga al rifiuto della ragazza i pugni e poi la violenza immediata la denuncia della giovane che ha portato in breve tempo anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona all'identificazione dell'uomo arrestato dai carabinieri nella serata di venerdì nella mattinata odierna l'udienza di convalida del fermo nella quale il marocchino ha respinto ogni accusa fornendo la propria avversione dei fatti l'uomo ha spiegato il suo legale l'avvocato Domenico Biasco ha negato la violenza sessuale e anche sulla cessione della droga le sue dichiarazioni non collimano con quelle della ragazzina il referto del pronto soccorso spiega l'avvocato non evidenzia la violenza che la ragazzina ha raccontato di aver subito dichiarazioni queste che però sembra non abbiano convinto il giudice che in attesa della chiusura delle indagini condotte dalla compagnia dei carabinieri di Civitanova Marche ha convalidato il fermo in carcere questo dunque quello che ha raccontato il nord africano dal carcere davanti al jeep ancora cronaca da Ancona intanto per la mostra che è ferita nel mirino dei vandali questo in piazza Cavour spaccate 4 delle 28 foto dell'esposizione di Go World è inaccettabile, ora li denuncio, sono le parole di Ludovico Scortichini che è appunto colui che ha allestito questa mostra di foto prese di mira le immagini delle grotte di Frassassi la speranza è che le telecamere del centro abbiano ripreso il tutto e poi l'obiettivo sicurezza con un focus del resto del Carlino nel quartiere Piano Sallazzaro il cuore popolare sta morendo, regnano degrado e insicurezza viaggio nello storico quartiere anconetano tra sporcizia, tra rifiuti abbandonati e zero iniziative quello che mette in evidenza questo articolo molti locali sfitti, non ci sono vie di uscita a differenza dell'altra zona multiculturale della città, gli archi il piano sembra in una situazione di degrado e abbandono ormai le storiche attività si contano sulle dita di una mano molti locali sono sfitti e le iniziative non ci sono piano che viene osservato speciale sul fronte della sicurezza l'ultimo caso di cronaca è quello delle botte della rapina ai fidanzati e caccia agli aggressori la risposta sarà forte dice il vice sindaco Zinni più agenti e videocamere l'ennesimo grave episodio l'altra notte in corso Carlo Alberto un'escalation preoccupante preoccupante proprio anche per l'amministrazione comunale questo è il quadro da Ancona sul Corriere Adriatico invece abbiamo ad Ancona quelli che resistono il nostro esempio saremo aperti anche a Ferragosto diverse le saracinesche abbassate si legge in questo articolo ma anche qualche temerario la mappa del commercio anconetano a Ferragosto si divide tra chi resiste per spirito di servizio e chi invece rinuncia all'incasso per permettere ai dipendenti di stare con le famiglie nel mezzo chi per scelta o per necessità deve vivere Ancona in agosto partiamo proprio da chi giovedì 15 agosto sarà nel proprio locale per accogliere i clienti come ogni altro giorno se vogliamo che il turismo della nostra città si sviluppi dobbiamo essere i primi a dare un esempio e a fare la nostra parte dice Paolo Palpacelli titolare del Plaza di Portonovo e di un locale gemello in Corso Garibaldi a proposito di turismo e di accoglienza ad Ancona ieri una nostra mini inchiesta tra gli stranieri che sono arrivati dal porto fino al centro città e quella che è la situazione appunto di visitatori nel capoluogo siamo proprio arrivati questa mattina non abbiamo ancora visitato abbastanza ma già di poco abbiamo visto è molto carino da dove venite? del Belgio cos'è che vi piace di più? cosa vi accolci? ci piace molto i palazzi dove si vede la fasciata e ci sono le fasciate molto belle pulite e veramente il lavoro che hanno fatto a noi ci piace vedere tutti i dettagli e poi adesso dobbiamo ancora vedere molto noi veniamo dalla Svezia è la prima volta qui a Ancona? sì sì è la prima volta vi piace la città? sì molto ci piace molto qui prima eravamo sull'altra costa a Genova ma qui è molto più piacevole cosa le è piaciuto di più? beh è una città davvero davvero bella un posto sicuro e piacevole dove fermarsi veniamo dal Belgio cosa ne pensa di Ancona? è la prima volta? no no è da 20 anni che veniamo in Italia da 3-4 anni anche nelle Marche e quando siamo qui veniamo sempre almeno un giorno ad Ancona con i bambini per dedicarci a shopping cultura e poi anche il mare il mare adriatico è molto bello il turismo ad Ancona non è morto anzi i turisti ci sono e molti in realtà sono stranieri croceristi ma non solo sfidano il caldo per visitare la città fanno shopping o passeggiano per le vie del centro con lo sguardo rivolto all'insù ammirano i palazzi le architetture e l'atmosfera piacevole e rilassata che si respira tra le vie cittadine ancora però c'è molto da fare soprattutto per aumentare il numero dei posti letto in città ma non solo io ho letto sui giornali alcune cose incredibili tipo il paragone tra Ancona e Senigallia se pensate ai posti letto di Ancona rispetto ai posti letto di Senigallia è evidente che il bacino di utenza turistico di base è completamente diverso credo che Senigallia abbia dieci volte i posti letto di Ancona per cui è una realtà completamente diversa noi dobbiamo crescere dobbiamo far lavorare come ho sempre detto su tre diciamo deve crescere il turismo su tre binari diversi il primo è sicuramente quello di riempire di contenuti la città e poi l'altra cosa fondamentale è quella di fare una promozione all'altezza della città per renderla appetibile anche da chi viene da fuori e la terza è proprio appunto quella di aumentare il numero dei posti letto disponibili perché una città turistica non può permettersi di avere così pochi posti letto come Ancona il paragone sui posti letto tra la città di Ancona e quella di Senigallia ma Senigallia andiamo per un altro motivo tornando online sul sito del Corriere Adriatico la storia di Luigi De Michele lo vedete nella foto agente del commissariato di Senigallia che il 6 agosto scorso ha salvato una giovane mamma dal suicidio è riuscito a farla esistere utilizzando solo le parole giuste intrattenendola al telefono per 40 minuti era la prima volta raccontato che affrontavo un'emergenza di questo tipo mette il poliziotto era stata la madre a cui la figlia aveva annunciato l'intento del suicidio a dare l'allarma al 112 originaria del pesarese la donna si stava dirigendo a Senigallia dove ha trovato la professionalità e l'umanità del suo interlocutore ho cercato di farle capire il racconto del poliziotto che a quell'età abbiamo tutti una vita davanti che non è fatta solo di cose brutte le belle possono accadere a chiunque in qualunque momento e poi aver fatto leva sulla donna madre di un bambino di soli 20 mesi intrattenendola parlando del piccolo fatto emergere tutto l'affetto di una madre per il proprio figlio portandola ad esistere dall'insano gesto davvero complimenti per la lucidità per la prontezza per l'umanità per la sensibilità di questo agente del commissariato di Senigallia Luigi De Michele anche lui insomma sufficientemente giovane per affrontare casi di questo di questo tipo e in quei momenti bisogna sapere bene trovare bene le parole o le chiavi di comunicazione giuste per per distogliere chi ha intenti di di questo tipo complimenti ancora e poi un'altra storia invece che ci arriva da Rosora ripartire dalle ferite è così che Stefania Simonetti 34 anni di Rosora ha realizzato il suo sogno aprire un rifugio per cani dove poter donare un po' di pace e calore umano ai poveri animali strappati all'abbandono e ai maltrattamenti si chiamerà il rifugio dell'amore come la sua associazione e per la precisione sarà un home restaurant immerso nel piccolo borgo medievale di Palazzo di Arceva la struttura offrirà un'occasione di socializzazione e sensibilizzazione sul tema della cura degli animali ai più giovani una sorta di pet therapy per i più piccoli diversamente abili anche questa una lodevole iniziativa che ha a che fare sia con il bene con le cure da offrire ai nostri amici animali ma allo stesso tempo invece far capire come il calore dei nostri animali poi sia una medicina davvero molto molto speciale anche per gli umani edizione di Macerata la foto notizia è questa che vedete quindi il bilancio del Macerata Opera Festival uno sferisterio da record e il bilancio lo ascoltiamo proprio nelle parole vive del direttore artistico Paolo Gavazzeni tutti insieme abbiamo costruito il successo di questa stagione un successo che non era tale da decenni perché il pubblico che si è visto quest'anno al Macerata Opera Festival non si era mai visto in termini di affluenza in termini di box office e in termini di apprezzamento fortunatamente per quanto riguarda quello che abbiamo portato in scena un pubblico così non si era mai visto sono queste le parole di grande soddisfazione del direttore artistico Paolo Gavazzeni all'indomani dell'ultima recita di Bohem allo sferisterio di Macerata una stagione con numeri entusiasmanti e mai registrati più di 49.000 spettatori totali e un incasso di oltre 1.700.000 euro rispetto al 2023 più 21% per il numero di presenze e oltre il 26% di incasso in più 8 sold out su 15 serate le 4 recite di Turandot una della Bohem notte di luna notte moricone e Carmina Burana la seconda recita di Turandot il 28 luglio con 142.000 euro di incasso è stato il più alto mai registrato in una singola serata dal 2019 numeri positivi dunque che già fanno guardare alla 61esima edizione presentata ufficialmente nei giorni scorsi dal 18 luglio al 10 agosto 2025 tre titoli popolari un titolo desueto per questo palcoscenico che è la vedova allegra di Franz Lehar Rigoletto e Macbeth di Giuseppe Verdi con il spettacolo meraviglioso di Emma Dante a questi tre titoli d'opera si aggiungono una serata di danza un concerto e una grande serata di gala tre titoli importanti dunque che amministrazione comunale e associazione Sferisterio dovranno promuovere già da ora porteremo nelle varie freglie che da settembre e ottobre si faranno in Italia quindi porteremo il MOFFE il macerato proprio per farlo conoscere perché abbiamo visto che quest'anno sono venuti tante persone straniere e questo macerata non ha subito una crisi diciamo di presenza anzi abbiamo aumentato molto le presenze a macerata e lo Sferisterio ha un grosso merito la città che cambia è in primo piano sul resto del Carlino edizione di macerata sotto passo chiusa la prima fase l'obiettivo è riaprire la galleria entro l'inizio dell'anno scolastico sono le parole dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori si parla del tunnel pedonale in zona Fontescodella completata la fase strutturale ora 28 giorni prima del collaudo traguardo raggiunto in anticipo rispetto alla chiusura degli impianti di calcestruzzo dall'8 di settembre le parole di Marchiori avremo giorni utili per predisporre il ripristino della carreggiata e le misure di sicurezza necessarie a riaprire la galleria prima dell'inizio delle scuole ancora a macerata con l'emergenza pronto soccorso sotto stress per la prolungata ondata di calore che mette a dura prova il reparto dell'ospedale di macerata che sta comunque rispondendo positivamente all'aumentato accesso soprattutto di persone anziane che vi fanno ricorso in queste giornate segnate da temperature percepite anche di oltre 40 gradi gli accessi in queste ultime giornate sono decisamente aumentati dice la dottoressa Alessandra D'Alessandro in particolare di anziani e persone fragili che soffrono parecchio questo caldo che comporta disidratazione e che incide anche sulle altre patologie di cui spesso soffrono i pazienti più avanti con gli anni se in una giornata normale gli accessi in pronto soccorso scillano tra 80 e 100 negli ultimi giorni abbiamo sempre superato il centinaio il che crea certamente momenti di stress al lavoro dei nostri sanitari che però si stanno dimostrando e pronti a supportare situazioni di questo genere alle quali siamo comunque abituati a un massiccio afflusso condizionato in particolare dalle persone fragili e anziane proprio a causa del caldo e questo articolo online del Corriere Adriatico per smorzare un po' il tema a proposito di AFA ci mandate questa questa foto con questa battuta uno su mille c'è l'AFA invece che c'è l'AFA c'è l'AFA buongiorno buongiorno anche a chi ci ha mandato questa questa foto altri buongiorno li ritroviamo anche online sulla nostra pagina facebook sul post della diretta streaming un saluto a Carla Tamburini e a Daniele Cardinali che simpaticamente scrive buongiorno Giacomo ma io non sono Giacomo e allora buongiorno a Giacomo Giampieri glielo manderemo poi faremo noi la diffusione di questo di questo messaggio allora abbiamo una foto di una denuncia diciamo così che arriva da Giuseppe ecco qui buongiorno si parla di carenza di acqua ma le tuvature ad Ancona sono messe male Pietralacroce le case tremano al passaggio degli autobus sembra un terremoto il motivo sono le perdite che mangiano il terreno la segnalazione è stata fatta ma non succede nulla fino a che non si aprirà una voragine dal peso dell'autobus e dal vuoto del terreno eroso dalle perdite la firma è di Giuseppe che evidentemente abita in una zona di Pietralacroce ad Ancona e che mette in luce la situazione delle tubature in città ora torniamo sul resto del Carlino edizione di Ascoli per parlare di Porto Sant'Elpidio e del tema ex FIM con il comitato tavolo tecnico no blitz estivo dicono le associazioni contro la riunione convocata dal sindaco in un pieno periodo di ferie allora andiamo direttamente all'interno del quotidiano per approfondire il tema proprio andando a leggere lo stesso articolo ieri questo tavolo tecnico che era stato convocato dal sindaco per cercare il destino migliore per l'ex FIM ma le associazioni parlano di blitz estivo la proprietà comunque insiste sulle ruspe e sull'abbattimento i soli campionamenti ARPAM sono parziali e non servono a capire quello che è il tipo di inquinamento tiene banco il tema anche sull'edizione di fermo ecco qui ma qui ci sono le parole del sindaco dopo il tavolo tecnico di ieri e le critiche del coordinamento per la FIM all'amministrazione di centrodestra Massimo Ciarpella primo cittadino di Porto Sant'Elpidio ho sempre pensato e non smetterò di farlo che la partecipazione attiva di cittadini comitati ed associazioni su temi di interesse pubblico sia un bene per la comunità questo vale anche per le associazioni impegnate per la salvaguardia dell'ex FIM ma mi piacerebbe che questo impegno non fosse un arroccamento sulle proprie posizioni ma una reale volontà di confronto lungi da me la volontà di imporre qualsiasi tipo di logica di pensiero ognuno può vedere nell'ex FIM ciò che più lo aggrada o lo conforta c'è ad esempio chi ci vede un opificio di pregio piuttosto che un rudere altri pensano che sia il Colosseo mentre altri ancora lo ritengono un ex sito industriale inquinato dei primi del novecento insomma c'è una differenza chiaramente di posizioni su quello che è questo bene o comunque questo sito dell'ex FIM ma restiamo a fermo o nel fermano perché dall'entroterra in poi online sul Corriere Adriatico si va verso il sold out in provincia c'è il traino della cavalcata ma per quello che riguarda il turismo gli stranieri sono in calo allora Ferragosto a tavola verso il sold out si è tornato ai tempi del pre-covid il periodo post-pandemico dopo che il virus aveva chiuso in casa tutti aveva spinto le mangiate al ristorante e la ristorazione si era sollevata ora siamo tornati alla fase precedente ma con i costi delle bollette maggiorati è quello che riferisce la categoria dei ristoratori e sembrano più soddisfatti gli esercenti dell'entroterra che quelli della costa si rilevano anche meno persone meno stranieri il pienone mercoledì e giovedì è garantito dalle famiglie dell'entroterra chi non va in vacanza ed è rimasto a casa ha deciso di mangiare fuori almeno questi due giorni dunque è un periodo tra luci e ombre questo nel comparto del gusto i locali sono quasi tutti sold out il 14 e 15 ma un ferragosto da solo non fa primavera come insomma una rondine che non fa primavera per restare sempre nel fermano facciamo il ping pong con le edizioni in digitale del resto del carlino e qui c'è la storia di Francesca Sparvoli da fermo agli estates con i nostri tartufi o incantato Miami il racconto di lei che 12 anni fa ha compiuto il trasferimento con il compagno negli Stati Uniti le marche dice sono ancora poco conosciute la sua avventura le ha consentito di farne un lavoro grande di portare sulle tavole dei ristoranti migliori di New York il tartufo delle marche Truffle Lady è il suo marchio quindi signora del tartufo a fermo faceva la giornalista per la SNAI si occupava di sport anche all'estero e poi la voglia di cambiare vita e quindi adesso il trasferimento per lavoro a Miami alla ricerca di nuovi mercati con i produttori marchigiani ad Urbania siamo in società spiega Francesca ma portiamo in America tutti i tipi di tartufo perché le marche sono l'unica regione che ne ha di tutti i tipi il nero pregiato il nero scorzone e anche il bianco davvero una storia una seconda vita o una second chance se così vogliamo dire anche se meglio dire seconda opportunità in italiano ma comunque è la storia di chi si è rimessa in gioco e ha trovato appunto una pista alternativa una storia una strada alternativa negli Stati Uniti però facendo leva su quelle che sono le eccellenze marchigiane a proposito di eccellenze marchigiane a proposito di turismo a proposito di prenotazioni quelle che trainano sono in agriturismo per la settimana del ferragosto sentiamo chi fa ristorazione è vicino al pienone chi fa ospitalità soprattutto nella media collina o nelle aree marginali alla montagna diciamo qualche mio socio mi ha detto io sono già completo da inizio giugno quindi questi sono bellissimi risultati visto che le nostre montagne sono state caratterizzate anche da anni difficili al sisma vuol dire che c'è una ripresa c'è una volontà di ritornare che tipo di soggiorno cerca il visitatore di un agriturismo va per la maggiore le passeggiate in bicicletta lei ha menzionato l'entroterra tutto quello che è le passeggiate le passeggiate in bicicletta un'attrattiva grandissima che offre la nostra regione sono tutti i campi girasoli adesso siamo a fine fioritura ma vedere molti turisti con telefoni in mano o fotocamere o macchinette fotografiche a fotografare quello che per noi è la normalità per loro è una cosa nuovissima e quindi vengono attratti anche a questo parliamo di turisti sia stranieri che italiani stranieri sono una bellissima sorpresa perché ci scelgono sempre di più possiamo dire che la metà del turista che verrà nelle Marche è straniero soprattutto del nord Europa scelgono l'agriturismo per un semplice motivo quello di vivere un'esperienza alternativa alternativa al mare stesso ma poi ecco in un agriturismo puoi vivere l'esperienza della stalla l'esperienza dell'orto ero da una collega l'altro giorno e con i suoi turisti erano nel frutteto a raccogliere la frutta per poi trasformarla in confetture insieme oppure assaggiarla raccolta dall'albero come è cambiata l'esperienza in agriturismo consumatore consapevole noi come associazione già dal 2020 abbiamo sfruttato un po' tutto quello che la pandemia ci ha obbligato e quindi abbiamo iniziato un percorso di formazione per i nostri associati che sia la cucina contadina che sia l'ospitalità che sia tanti altri aspetti che hanno fatto sì che i nostri agriturismi i nostri soci possano aver ricevuto una formazione tale da far passare il messaggio a chi viene da noi che non è solamente la camera o il tavolo o il momento vissuto di spensieratezza come quello che abbiamo vissuto adesso in apertura di collegamento ma è anche trovare una persona formata preparata che sa trasmettere e lo sa fare con innovazione allora ci chiediamo al mare o in montagna la guida per Ferragosto che propone l'edizione di Ascoli Fermo le province del Piceno e del Fermano che si aggregano in questi eventi però diffusi sul territorio Ascoliva è l'evento Clu per Ascoli dove ci sono anche delle iniziative dedicate alla cultura nei vari musei delle 100 torri in Riviera per i mattinieri c'è il concerto all'alba poi le feste per tutta la giornata i più golosi non mancheranno delle occasioni enogastronomiche questo per quello che riguarda il Piceno dunque dall'entroterra fino alla costa tanti eventi le rievocazioni storiche nel Fermano con la cavalcata dell'Assunta per esempio a Fermo gli appuntamenti enogastronomici alla scoperta di quelle eccellenze che sono proprie del territorio insomma una guida su che cosa fare che cosa mangiare dove andare che cosa scoprire in questa settimana del Ferragosto ed in questi giorni di Ferragosto all'interno delle pagine appunto del resto del Carlino versione digitale di Ascoli e Fermo noi siamo ci avviciniamo ad un altro stop ad un'altra pausa tra poco lo facciamo e tra poco avremo anche ospite in studio il sindaco di Ancona Daniele Silvetti per affrontare con lui diversi temi che riguardano chiaramente il capoluogo di regione pausa torniamo tra poco sempre in diretta buongiorno ETV canale 12 e poi di contemporanea streaming pagina facebook sito internet etvmarket.it e app di etv1 ottica cristina montenoni qualità risparmio professionalità occhiali da vista e da sole delle migliori marche lenti a contatto strumentazione scientifica visita computerizzata della vista via piemonte 2 falconara marittima la vista è un bene prezioso concediti un doppio benessere acquistando un occhiale da vista con lenti antiriflesso per un nuovo occhiale da sole le lenti te le regaliamo noi dagli anni 90 la famiglia Moroni lavora nel suo laboratorio secondo antiche tradizioni tramandate da tre generazioni in via direttissima del conero vendita al dettaglio di sughi pronti porchetta salsicce salame al verdicchio e a rosso conero e tutta l'eccellenza della produzione Moroni oltre a miele con seme marmellate olio evo vino del territorio e pasta artigianale Marche Salumi è produzione vendita diretta catering ed è regalo Marche Salumi per la tua azienda per i tuoi eventi per la tua famiglia per qualsiasi ristrutturazione la face sia con te per una professione sicura e all'avanguardia corsi di formazione per saldatori ad Ancona Iesi e Fano per ottenere il patentino rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura valido nel mondo info 075 69 10 521 www.aironepg.it buongiorno da Etc Marche ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come sempre ci potete seguire in televisione sul canale 12 e ovviamente anche sul nostro sito e sulla nostra app di Etc Marche parliamo di economia parliamo di sanità mettiamo sulla cronaca la politica ora come vedete alle nostre spalle è appena entrata in porto la Geo Baren grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buongiorno Etv ben ritrovati sono le 8.33 di questo martedì 13 siamo come sempre in diretta canale 12 del digitale contemporanea streaming sulla nostra pagina facebook di Etc Marche il nostro sito internet www.tvmarche.it e la nostra app di Etc voi i modi per seguirci in contemporanea dove volete quando volete per essere sempre aggiornati li conoscete bene come anche le modalità per partecipare quindi il post alla diretta streaming sulla pagina facebook la linea whatsapp 349 39 18 169 utilizzatela se vorrete essere dei nostri tra virgolette anche perché in questa porzione di mattinata insieme la possiamo condividere con il nostro ospite che introduco ed è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti buongiorno ben trovato grazie per essere con noi buongiorno a voi buongiorno a tutti i telespettatori allora possiamo toccare tanti tanti argomenti però io prendo spunto in partenza da quello che ho letto intanto in questa mattinata gli spunti che sono arrivati dai colleghi della stampa locale siamo nella settimana del ferragosto ci avviciniamo alla giornata del ferragosto come sempre è un po' come dire uso e costumi di Ancona è quell'interrogarsi tra città aperta la città invece che chiude le serrande abbassate le attività il tema dell'accoglienza e il tema del turismo la prima domanda che le faccio è di questo di questo tipo chiunque viene ad Ancona abbiamo ascoltato ieri gli stranieri che sono sbarcati in città dal porto e che notano una città bella e poi invece le attività che scelgono o meno di essere aperte o no lei che cosa ne pensa che cosa si sente di dire anche perché sull'accoglienza e sul turismo di Ancona ne avete battuto ed è una delle vostre linee di amministrazione ma dunque tenere aperto agosto il centro di Ancona risponde più a una a una scelta culturale che la città deve fare ma non lo deve fare soltanto l'amministrazione lo deve fare l'operatore lo deve fare il cittadino stesso se vuole essere veramente una città turistica accogliente deve scegliere sostanzialmente qual è la propria linea se chiaramente ma giusto io devo dire anche dal punto di vista proprio personale se un operatore un commerciante decidi di chiudere per andare in ferie è assolutamente sacrosanto e legittimo io non è che lo posso obbligare questo però si concilia male con quella che è una concezione turistica 360 gradi che vede soprattutto nel periodo balneare ovviamente l'obbligo di tenere aperta la sala cinesca io dico questo l'amministrazione comunale è pronta a completare anche quel tassello di quella parte intermedia di agosto con i venti non abbiamo avuto problemi a riempire il resto della stagione abbiamo riaperto l'anfiteatro romano dopo 13 anni abbiamo aperto l'arena sul mare sul porto antico abbiamo riaperto le attività musicali intrattenimento ai laghetti del passetto oltre peraltro aver sostenuto alimentato patrocinato e finanziato tutte le attività collaterali che collaterali non sono ma che sono quelle degli operatori culturali che hanno interessato la mole piuttosto che altre parti diffuse se vogliamo riempire quel tassello che dicevo poco fa della ferragosto l'amministrazione comunale è pronta è disponibile però bisogna che ci sediamo tutti attorno al tavolo capiamo se le ferie le facciamo tutti più avanti e se il cittadino è pronto a ricevere perché ripeto è una scelta politica no è una scelta culturale che deve fare la città si vuole veramente rispolverare una vocazione turistica ed è un aspetto culturale perché su quello vedo che si è un po' di resistenza cioè il turista viene a volte visto con fastidio perché vuol dire più ore di lavoro vuol dire più impegno più programmazione più disponibilità più gentilezza insomma sono tante le componenti che rendono una città turistica ancora in questo ha tanto ancora da lavorare oltre che di aspetto culturale entro ancora più nel cuore qual è l'idea politica in questo caso quindi che potete portare avanti voi per migliorare la promozione della città e quindi quel rapporto o meglio quel ruolo di Ancona come anche un attrattore di turisti partendo da tutto quello che c'è attorno il mare e magari le città che sono più interne che confinano con il capoluogo Ancona Ancona in senso stretto Ancona in senso ampio più lato più metropolitano depositare delle grandi infrastrutture che servono che sono le grandi porte di uscita o di ingresso porto e interporto soprattutto aeroporto questi sono sicuramente strumenti che ci aiutano a capire quali grandi potenzialità e quali leve si possono mettere in campo perché si possa effettivamente promuovere il nostro territorio la capacità patrimoniale culturale architettonica storica della città non ha ovviamente non è seconda a nessuno l'amministrazione si mette al servizio dell'economia locale nello strutturare una serie di itinerari una serie di progetti di promozione e di investimenti sull'immagine di Ancona poi sono gli operatori stessi che chiaramente devono mettere il loro devono farci capire soprattutto quali potrebbero essere gli argomenti che possono valorizzare turismo cultura vuol dire economia questo non c'è voglio dire un asset per noi è imprescindibile e su quello vogliamo lavorare chiaramente da parte nostra ci deve essere un grande impegno nel migliorare le infrastrutture ma soprattutto i servizi il compito dell'amministrazione è migliorare i servizi riprendere tutta la questione del coro urbano le manutenzioni rendere quindi la città presentabile e mettere ovviamente in asset e in armonia quelli che sono i grandi contenitori della cultura e del turismo abbiamo tre spiagge diverse che rispondono a esigenze completamente diciamo a gusti completamente diversi a nord al centro al sud di Ancona abbiamo un mondo dell'hotellerie che vedo che ha ripreso a correre e a vedere i propri investimenti poi c'è stato ad Ancona centro peraltro vuol dire che c'è un'attenzione particolare qualcuno sta accogliendo che qualcosa si sta muovendo in questa città e l'amministrazione chiaramente ha tutti gli interessi ad attirare i capitali quindi va da sé che noi ci puntiamo tanto è un comparto fondamentale per noi il comparto della nautica tutti i comparti che si insistono all'interno del porto sono fondamentali per l'economia anconetana ma ritengo che al pari di questi anche il turismo possa esercitare un ruolo da protagonista Lei ha parlato delle tre spiagge che sono ognuna per gusti appunto diversi quindi parliamo da Palombina al passetto a Porto Novo su Porto Novo come sempre c'è il grande afflusso nel periodo estivo perché non può essere altrimenti bellezza di carattere ormai mondiale e non più soltanto marchigiano con Mezzavalle con la ZAC che avete introdotto per cercare come dire di gestire questo afflusso soprattutto di auto come sta andando per ora? Guardi noi abbiamo investito grazie soprattutto all'occasione unica del G7 salute 330.000 euro per Porto Novo quindi asfalti e strada completamente nuova parcheggi completamente rinnovati bagni nuovi messe in sicurezza di alcuni sentieri fra cui quello di Mezzavalle registro che il primo e unico intervento di recupero in salvataggio di qualcuno che si è rovinosamente caduto sul percorso di Mezzavalle è avvenuto questa domenica primo ce ne erano decine decine io risalterei questa cosa non parlerei infatti di ancora pericoli ho letto alcuni articoli che sono stati un po' ingenerosi di fronte al lavoro di tanti dipendenti pubblici che ci hanno lavorato di tecnici che hanno messo in sicurezza proprio quello stradello che è comunque pur sempre un sentiero del pacco del conoro che ripeto non va affrontato con le ciavate con l'infradito ma a parte questo l'investimento è stato importante è stata una riqualificazione di una location che sicuramente sarà destinata a vedere alloggiati alcuni ospiti dei cosetti delegazioni minori del G7 però lì ci abbiamo messo in mano prossimo anno faremo investimenti importanti al passetto che è la spiaggia cosetta degli anconetani e lì riqualificheremo un po' tutti i servizi per noi sarà fondamentale per finire ma non perché meno importante a Palombina dove c'è un contesto un po' più complesso sappiamo benissimo che con la questione degli scolmatori e con Viva Servizi riusciremo molto presto a risolvere anche quell'annosa questione le tre spiagge le tre P Palombina Passetto e Porto Novo sono assolutamente sotto nostra osservazione perché sono sicuramente gli hub preferenziali perché ci possa essere un primo approccio al turismo sicuramente quello balneare e per noi sono obietti da visita sono importantissimi devo dire che la risposta è stata importante me lo dicono i ristoratori me lo dicono gli albergatori che Ancona da questo punto di vista si è fatta trovare pronta mi ha dato un assist quello del G7 perché sarà un grandissimo appuntamento ed un momento di ribalta internazionale per Ancona cercando di capire quindi mettendo una cornice attorno a questo evento che non è un evento in realtà nel senso che è la riunione dei paesi del G7 sul tema della salute che cosa accadrà per Ancona Beh Ancona diventerà il centro internazionale di un evento non comune assolutamente straordinario per il nostro contesto dove vi sarà la possibilità di far conoscere il capologo e anche le marche e il resto del mondo sono particolarmente orgoglioso che si sia riusciti a portare questa occasione questo grande appuntamento all'interno del quale e ai lati del quale perché l'evento sarà 9, 10, 11 di ottobre sono stati costruiti dei percorsi che rendono più vicini possibili ai cittadini i contenuti i testi perché altrimenti sarebbe se avessimo scelto di celebrare soltanto i tre giorni avremmo rischiato soprattutto di tenere lontano i cittadini la popolazione invece forti dei contenuti che diramano e che dipendono dalla questione salute abbiamo dal 3 al 13 creato circa una quarantina di eventi assolutamente alla portata dei cittadini in termini di comunicazione informazione e prevenzione che saranno utili saranno di avvicinamento a questo grande momento istituzionale questo sarà sicuramente il miglior biglietto della visita di una città che è a questo punto sede internazionale di un grande vertice ma sarà soprattutto la grande cartolina che noi daremo al mondo di quelle che sono le nostre grandi potenzialità è il periodo adesso in cui Ancona si sta rifacendo bella quindi che cosa accade con cantieri con le manutenzioni magari con le riqualificazioni di strade non solo insomma che cosa sta succedendo sì io chiedo scusa ai cittadini anconetani se avverranno alcuni momenti di disagio ma se vogliamo veramente migliorare e risolvere quella coltre quella stratificazione di problemi che per anni non sono stati risolti parlo delle manutenzioni stradali un po' di disagio dobbiamo saperlo sopportare e ci saranno appunto e ci stanno in questo momento lavorando ditte esterne e personale interno per garantire nel circuito chi sarà interessato dal percorso delle degrazioni delle staffette ovviamente una dignitosa viabilità e ovviamente ne approfittiamo per rimettere a posto anche vie collaterali rotatorie manutenzione del verde insomma con i finanziamenti che sono arrivati dalla regione a quelli che abbiamo messo noi e dall'autorità portuale approfitteremo per mettere in sesto una situazione che sappiamo benissimo a essere stata molto critica dal punto di vista proprio delle manutenzioni e questo però ne esaurisce quello che è il compito di risolvere la situazione del manto stradale in vie che sono praticamente collassate qualche esempio penso a via Marconi sarà una delle vie percorse dalla maggior parte delle staffette credo che sia parte del percorso quasi obbligato sarà la principale peraltro sarà interdetta però sarà completamente riasfaltata questo per il mese di ottobre assolutamente sì quindi i lavori inizieranno a breve e verrà completamente rinnovata tutta via Marconi con una nuova politica della sosta con una nuova politica della viabilità dove verrà garantita sempre la corsia preferenziale per i mezzi pubblici e per arrivare in centro verrà verosimilmente utilizzata la via diciamo interna agli archi in modo tale da garantire la continuità della circolazione ma non sarà l'unica ovviamente perché le staffette arriveranno da sud a nord sono i cantieri i cantieri per il raddoppio la statale e l'ultimo miglio e questo comunque ci consentirà comunque di presentare una città assolutamente all'altezza della situazione devo dire che non solo Ancona e Comune di Ancona ma anche alcune società partecipate come Beva Servizi si sono attivate e Ancona Servizi si sono attivate proprio per questo lavoro di manutenzione così robusto Il cantiere di Piazza della Repubblica come sogna alla fine i lavori insomma quello che dovrà essere il risultato tanto se lo è immaginato perché giustamente c'è un progetto però ecco come vorrebbe che poi fosse davvero una volta poi risistemata quella parte di città Vorrei che diventasse il cuore pulsante della città della città non solo culturale museale artistica perché peraltro depositare del più grande contenitore culturale della città ma anche un momento di incontro e di abbraccio fra il porto e la città questa è la cosa fondamentale e il fatto di voler rivedere la viabilità la circolazione dando più spazio a una piazza quindi alla frequentazione alla presenza più ferma quella pedonale rispetto a quella del traffico che noi conosciamo ci aiuta a pensare in una città già diversa da quel punto di vista quindi la vogliamo valorizzare vogliamo valorizzare non solo il teatro delle musee ma vogliamo valorizzare questo concetto cioè dell'accessibilità al porto quindi non solo togliere quelle diciamo quelle siepi quell'edicola che lì comunque ostruisce una visibilità chiara del mare e rivedere completamente la piazza avendo tolto avendo spostato i taxi avendo tolto i genio tolto la pensilina rivista completamente la via di accesso e di uscita tolta una strada intermedia e ridotti chiaramente i parcheggi perché li abbiamo spostati d'altrove questa radice lunga sul fatto che quella vuole diventare effettivamente compiutamente una volta per tutte la piazza del teatro della città faccio un passo indietro dando spazio ad alcuni messaggi che sono arrivati e il passo indietro corrisponde al ritorno sul tema delle spiagge e magari alla disponibilità di servizi o alla riqualificazione di alcune parti ci scrive il nostro telespettatore se è in previsione la sistemazione della situazione delle grotte quelle del passetto in questo caso che ricadono ancora sotto il demanio per rendere la situazione leggo tutta omogenea e far diventare tutte le grotte sotto il comune allora col demanio un tema non televisivo in questo momento non per i tempi non di soluzione televisiva no no ma a parte questo stiamo con il direttore Torretta e col demanio affrontando periodicamente questo discorso noi vogliamo non solo tutelare i nostri cittadini i diritti acquisiti e l'immagine stessa delle grotte che sono comunque un segmento identitario della città di Ancora non sono tutte nella stessa condizione perché dipende appunto la linea di demanio laddove viene individuata che coglie gli aspetti più critici abbiamo un consigliere delegato che è il consigliere del buon tempo che è uno da me delegato proprio per tenere costantemente al corrente i vari comitati che si sono creati nel tempo e l'amministrazione con il demanio per capire come risolvere una volta per tutte sia le quote che vengono erogate o pagate o richieste per la concessione così come la situazione di un contenzioso che però credo che sia in dirittura d'arrivo in termini di soluzione da parte di questa amministrazione c'è la volontà di risolvere il problema una volta per tutte di non incappare sempre in situazioni quando sono ormai fuori controllo e magari sfoccino in indagini o addirittura in in pendenze fastidiose estremamente pericolose quindi vogliamo fare anche in questo caso gli interessi dei cittadini proprio perché vogliamo valorizzare il cuore della città la falesia che in qualche modo ricada all'interno di un'area protetta debba essere in qualche modo a tutto tondo parte integrante della città dal passetto a Porto Novo leggo anche questo messaggio vista la presenza del sindaco passando per Porto Novo ho visto diverse auto multate penso che per il povero bagnante dopo aver fatto il sentiero di Mezzavalle si ritrovi un bel regalino non è questo il modo di fare cassa del comune ci sarebbero altri modi grazie la premessa è che ci sono delle zone in cui la sosta è vietata al di là che si faccia lo stradello di Mezzavalle però le multe forse dipende anche bisognerebbe capire meglio dove sono state messe però ci sono delle zone che sono vietate per la sosta e ci sono delle nuove aree che invece sono state adibite appunto al parcheggio anche in quella zona si può fare sicuramente meglio? io sono allibito sono completamente allibito quando ascolto queste cose con tutto rispetto di chi ha posto questa questione posso capire quando all'inizio della stagione non vi erano i posti dove andare a parcheggiare le auto e comunque c'era un violazione del codice della strada che andava sanzionato avremmo fatto un'omissione anche perché parcheggiare dentro un fosso metà macchina a ridosso di una strada provinciale le capisce quali pericoli sottopone la viabilità e qualsiasi altro cittadino ma oggi vedere delle macchine che insistono nonostante ci siano centinaia di posti di sosta disponibili dove al massimo si paga 10 euro al giorno e si rischia invece di lasciare la macchina a 100 metri dal parcheggio e si prende una multa che va ben oltre i 30 euro per me è un'assurdità cioè si mette una macchina non in sicurezza lungo la strada piuttosto che a 100 metri in un parcheggio che ripeto non è mai esaurito non è mai pieno e parlo di quello privato poi c'è quello pubblico dietro cioè mi capita di vederlo anche questa domenica l'ho visto ci sono state delle multe diciamo una decina di multe che vedevo dalla strada e non mi capacitavo del fatto che comunque si preferisse lasciare la macchina in sosta e in una situazione di pericolo piuttosto che dentro un parcheggio che peraltro ha la sua vigilanza e che comunque mette in condizione la persona di lasciare un'auto in sicurezza quindi per me è ancora incomprensibile questo tipo di atteggiamento perché poi cosa c'è a stare dovrebbero conoscerlo tutti anche gli stranieri quindi questa per me è una cosa ad oggi incomprensibile prendo spunto invece dalle pagine interne del resto del Carlino per cambiare argomento il tema è quello della sicurezza l'ultimo caso di cronaca ci riporta di una rapina con botte a fidanzati che erano lungo corso a Carlo Alberto una mini inchiesta insomma del resto del Carlino ci porta nel quartiere Piano San Lazzaro cosa si può fare cosa state pensando di fare ieri avevamo letto anche in rassegna stampa le nuove telecamere di sicurezza che insomma che si aggiungono già a quelle che sono collegate con la control room della polizia locale ma dunque il comune la polizia locale del comune di Ancona è di supporto perché non ha competenze sulla pubblica sicurezza in maniera diretta ma devo dire che questa amministrazione ha messo in condizione la polizia locale di collaborare non poco non solo con la control room delle telecamere avendo implementato non poco i propri investimenti in termini di controllo del territorio con la squadra antidegrado che sta dando grandi risultati di prevenzione e di controllo soprattutto per lo spaccio per la lotta allo spaccio e anche di dei centri ci sono stati dei risultati estremamente importanti dall'altro con quest'ora il rapporto è costante è costante e anzi cerchiamo in tutti i modi di garantire la maggior presenza possibile soprattutto nelle ore notturne ed è il senso dell'armamento della polizia locale poter garantire anche nelle ore notturne la presenza sul territorio di nostre pattuglie questo è quello che stiamo facendo che non ha precedenti questa città dopodiché mi è stato spiegato che comunque c'è un dato fisiologico che ovviamente ad Ancona fa notizia perché è anche uno scontro di questo genere però la situazione è ampiamente sotto controllo poi che possa fare notizia lo capisco e va assolutamente relazionata e va in qualche modo condivisa con i cittadini a punto di vista informativo però diciamo che siamo ben al di sotto di una soglia critica la città è una città comunque sicura è però una città che vive un processo di integrazione culturale molto importante perché fatto 100 ormai il 16% popolazione straniera che ha culture e abitudini diverse e su quello l'amministrazione ha il compito di rendere più armonioso possibile questo rapporto questo rapporto di scambio di interscambio e di civile convivenza ecco a defaticare subito quegli eventuali focolai che si dovessero creare in certi quartieri della città quello si lo fa comunque controllando ma allo stesso tempo agevolando il rapporto e il dialogo fra diverse culture invece nella dall'edizione di ieri dei quotidiani c'erano anche le parole e le immagini di Ran che avete scelto artista che ha completato la sua opera di colorazione di abbellimento degli ingressi della galleria del risorgimento sarà ancora sfruttato tra virgolette per migliorare altre parti così curiosità che era nata ieri ma sulla scorta la ripropongo oggi è un artista riconosciuto a livello internazionale una persona molto disponibile creativa con i suoi tratti insomma ha dato questo contributo alla città peraltro ripeto finanziata da privati non dal comune di Ancona è un'opera provvisoria che ci aiuterà a tenere in qualche modo la galleria con una sua connotazione più colorata rispetto a come era sporca prima e maltenuta io parlo dell'esterno si attiveranno molto presto e che vuol dire già dal prossimo mese i lavori di messa in sicurezza di pulizia di nuova illuminazione all'interno è una galleria che ha bisogno di manutenzione straordinaria molto importante è un anello è una scusa scusi una cinghia di trasmissione un vero e proprio un bellico che collega le due parti di ancona è una quella che ho definito sempre una galleria monumentale per ciò che significa e rappresenta e quindi su quello interverremo molto presto e abbiamo messo a bilancio già le cifre necessarie per tutto il piano di sicurezza dopodiché che l'artista e le qualità di RAM possano essere impiegate altrove non lo escludo anzi lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto e credo che in qualche modo non solo il mondo dei writers possa in qualche modo trarre qualche spunto e far capire che in realtà non ci sono preconcetti ideologici seppur chiaramente questa amministrazione tende la mano a chi rispetta le regole e sa quando e dove si possono ovviamente esplicitare le proprie capacità artistiche ma dall'altra è assolutamente non tollerante nei confronti di chi viola sia proprietà privata e pubblica e imbratta monumenti e immobili dei cittadini ecco su questo noi siamo estremamente intransigenti e credo che la pulizia che faremo dei plessi pubblici e quelli privati in accordo col privato che costituirà comunque un impegno importante di spesa per questa amministrazione sia il monitor per tutti i cittadini che chi abbiamo a raccolta nel dover segnalare eventualmente casi di violazione sistematica della proprietà privata e pubblica e lo faccio alle forze dell'ordine le forze di pulizia locale lo faccio anche all'amministrazione ai sportelli che sono l'amministrazione insomma credo che da questo punto di vista ci sia una sinergia inevitabile e imprescindibile dobbiamo comunque garantire una città pulita e decorosa anche in questi tratti che sono comunque le fonti del primo degrado della città cambio tema entro in quello sportivo visto che ci avviciniamo diciamo anche alla parte finale della sua presenza ecco qui nei nostri studi come ha vissuto le olimpiadi visto che insomma per Ancona ci sono state luci d'ombre le ombre purtroppo la sfortuna e le condizioni di salute precarie con cui il nostro Tamberi si è presentato alla finale le luci e quel bell'argento di Tommaso Marino beh ho vissuto sì chiaramente con alti e bassi con qualche delusione per quanto poi maturata non sul come si dice sul campo ma per effetti e per eventi esterni un peccato per lui per noi nonostante poi l'andamento complessivo nazionale sia stato estremamente importante dal punto di vista del medagliere avevamo grandi speranze per i nostri atleti che comunque portano a casa un bottino comunque che ci si inorgoglisce speriamo con il nostro Gimbo con Tamberi di poter eventualmente appena si ristabilisce di riproporre quell'evento sportivo che avevamo in mente prima della sua partenza e che lui aveva fortemente voluto riabbracciarlo sia il modo per la città di riabbracciare il proprio campione vedo con la coda dell'occhio sul retro della cover del suo smartphone lo stemma dell'Ancona sono stati due mesi e quasi due mesi e mezzo diciamo particolarmente intensi che l'ha vista in primo piano per ricostituire qualche cosa di nuovo intorno al calcio anconetano è partita la nuova SSC Ancona due bandiere a cui affidarsi anche non solo per l'entusiasmo ma anche per ristrutturare un po' tutto due mesi e mezzo dopo e chiedo come ha vissuto questo periodo intanto e poi insomma da tifoso a questo punto come sta seguendo le vicissitudini nuove a parte che questa cover l'ha regalata a un ragazzino in spiaggia che io tengo gelosamente è stato veramente un dono graditissimo è stato un momento così di grande spontaneità e naturalezza dunque sto vivendo con grande motivazione questa attesa da primo cittadino perché chiaramente poi la società nella sua totale piena inevitabile autonomia sta costruendo una squadra così come la prima e il settore giovanile si stanno ricostruendo devo dire con un certo entusiasmo è stato un mese molto difficile il primo quello dal 4 giugno al 4 luglio il 4 luglio è il momento in cui siamo andati a depositare chi la società le assegni chi la dichiarazione dell'amministrazione sull'aggradimento della società per l'amministrazione un mese molto difficile e complesso e lo ringrazio ancora coloro che hanno investito Marconi e Polci e tutti gli sponsor che si sono collegati e non ultimi ovviamente Vicenzo Guarini e Massimo Gadda con i quali c'è stato un rapporto costante in attesa che si concretizzassero gli aspetti societari credo che fosse la formula migliore di miglior garanzia per lo sportivo per il cittadino ma per il tifoso che le cose ripartissero da qui che fossero sotto il controllo del cittadino anconetano e che avesse delle figure che appartenevano e che appartengono alla storia vincente dell'Ancona credo che fosse la formula migliore quello che mi era venuto in mente era questo non è stato un periodo semplice perché sono state tante le criticità era un momento estremamente fragile per il mondo calcistico anconetano parlo per l'Ancona per intenderci e di pericoli i tentativi esterni ce ne sono stati tanti che poi non sono stati nemmeno tanto nemmeno raccontati però diciamo che l'amministrazione del sindaco è stato sottoposto a una pressione importante e lì era importante fare la scelta giusta credo che tutto sia stato fatto nell'interesse di Ancona e degli anconetani credo che questo sia il modo migliore per ripartire il campionato riprende l'8 settembre abbiamo ancora quasi un mese di preparazione vediamo altre squadre che sono ancora in costruzione però visto che ho grande motivazione sarò fra qualche minuto giù con i ragazzi che sono al lavoro per un saluto per condividere così qualche battuta non vedo l'ora che si inizi che inizi calcio giocato ad Ancona per l'Ancona e per i tifosi e credo per tutti i cittadini perché poi mi fermavano tutti quel periodo non era solo una questione calcistica la città si sentiva tradita e quindi anche lui che magari è andato allo stadio dieci anni fa chiedeva notizie di quello che sarebbe stato il futuro di Ancona Calcio questa è stata la spinta che mi ha aiutato poi a fare le scelte spero giuste ma mi sembra che siano state gradite da tutti e poi perché un progetto di quel tipo abbia fortuna servono anche diciamo delle congiunture astrali qualche cena fortunata come ha raccontato il presidente del Frosinone Stirpe insomma qualche appoggio di consulenza di chi è vero fa parte di un altro calcio rispetto purtroppo a quello in cui si ritrova Ancona oggi però insomma ma anche quello è servito sì credo che possa essere definita proprio così cioè quelle congiunture astrali che aiutano che sono poi magari determinate da relazioni da rapporti personali e devo dire che la conoscenza del presidente Stirpe è stata illuminante per certi versi devo dire grazie a un amico in particolare che mi ha fatto conoscere una cena e devo dire che peraltro ho di grandissima stima e seppur con attrazioni diverse e caratteristiche diverse anche al presidente Lotito con cui c'è stato un rapporto costante insomma tutto è servito per costruire questo architrave che noi vogliamo rendere solido soprattutto a garanzia e della tranquillità del cittadino anconetano che stufo questi avvicendamenti continui e di delusioni cocenti grazie sindaco mi sono preso circa cinque minuti in più del pattuito ma insomma quando poi si entrano dentro alcuni temi tipo quelli legati allo sport qualche minuto in più da spendere mi sembra giusto buon lavoro grazie per essere stato con noi grazie a voi dell'invito e alla prossima grazie dunque al sindaco di Ancona noi ci fermiamo per una pausa tra poco l'ultima parte della rassegna stampa l'ultima parte della diretta sempre sul canale 12 a te immersa nel parco del Conero a pochi minuti dalle coste più belle dell'Adriatico Camerano capitale del Rosso Conero e città d'arte ed di cultura ti aspetta con un calendario estivo ricco di eventi visita la città sotterranea incontra Carlo Maratti uno dei massimi pittori del Seicento vivi l'ambiente con i percorsi trekking e bike e gusta le eccellenze enogastronomiche del territorio arte, storia, cultura vino e natura quest'estate scopri Camerano vieni nel cuore del Conero SEMA tende infissi e a Castelfidardo assistenza riparazioni e vendita infissi in legno PVC o alluminio tapparelle e persiane porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno montaggio in giornata SEMA tende infissi per vivere il tuo giardino d'inverno progettazione di tende da sole pergole gazebo bioclima con resistenza al carico neve unici in Italia predisposizione per luci LED di chiusure perimetrali in PVC o vetrate SEMA tende infissi e a Castelfidardo incontra da San Pellegrino 20 BST Tecnologie riparazione smartphone tablet e computer e vendita a dispositivi ricondizionati con uno o due anni di garanzia BST Tecnologie partecipa alla piantumazione di alberi per compensare le emissioni di CO2 ci trovi a Dancuna in via Maggini 51 DST dai nuova vita alla tua tecnologia per i nostri anziani ricoverati nell'RSA per i nostri fratelli terremotati per i bimbi orfani in Africa questi sono i nostri progetti in ricordo di Daniela Peppe Storani e Franco Grasso aiutaci ad aiutare dona il tuo 5 per 1000 al sorriso di Daniela una piccola associazione dal cuore grande sai chi siamo sai cosa facciamo insieme aiutiamo e fermi a tutti i nostri fatti a tutti i nostri Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Vogliamo pioggia frescura, non se ne può più di questo caldo. Grazie a tutti. 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 della selva di Gallignano con fondi che arrivano anche da un bando della regione Marche e fondi POR-FESR. Valorizzare l'orto botanico della selva di Gallignano, migliorare l'ecosistema floreale e collegare i borghi di Casine di Paterno e Gallignano. Sono questi gli obiettivi del bando regionale FESR dedicato ad infrastrutture verdi urbane vinto dal comune di Ancona in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche 186.500 euro per riqualificare e aumentare la fruibilità della selva di Gallignano. L'obiettivo innanzitutto è quello di far conoscere l'orto botanico alla cittadinanza anconetana e anche alla grande componente studentesca che vive nella nostra città. Il secondo obiettivo è quello di valorizzarlo anche da un punto di vista pratico e strutturale realizzando due nuovi sentieri, uno da nord e uno da sud e colleghino le due frazioni adiacenti all'orto botanico della selva di Gallignano in questo modo proprio da interagire sempre più tra città e università. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti un anno fa e anche in questo caso stiamo cercando di portarlo avanti. Da non dimenticare infine la grande attenzione data dal progetto alle attività di impollinazione verranno realizzate infatti a uguale di specie arbustive perenni proprio per attrarre gli impollinatori punto importante anche considerando le finalità didattiche della selva porte aperte agli studenti universitari ma anche a tutte le scolaresche del territorio. Quello è un luogo di ricerca prettamente universitario che però l'università d'accordo col comune rende usufruibile a tutta la cittadinanza e quindi l'obiettivo è proprio quello di aumentare la presenza dei nostri cittadini all'interno di questo spazio che è aperto tutti i giorni dell'anno e consente proprio di conoscere sia i spazi di ricerca che un luogo naturale di bellezza indiscussa nel nostro territorio. Entro la fine dell'anno sono attesi gli inizi dei lavori nell'ottica di poter contare sul ripristino della nuova area verde per la prossima estate anche per ospitare eventi all'aperto rivolti a tutta la cittadinanza. Entro l'anno inizieranno già i primi lavori sicuramente la cartellonistica verrà aggiornata le prime piantumazioni e meteo permettendo anche la realizzazione di questi sentieri che appunto non saranno asfaltati di conseguenza richiederanno insomma un meteo che ci permetterà questo tipo di intervento. Torniamo sulla rassegna stampa e sull'edizione in digitale dei giornali quindi in questo caso del resto del Carlino perché abbiamo trovato in prima pagina il tema delle mucillagini ne abbiamo parlato con anche le immagini che sono arrivate da un satellite che dimostra come le mucillagini siano visibili addirittura dal satellite stesso su tutto il tratto di mare adriatico con le precipitazioni e soprattutto un forte aumento delle temperature delle acque del nostro mare oltre che per conformazione insomma tutte motivazioni che poi provocano la fioritura al gale delle mucillagini che lo ripetiamo non sono tossiche però ovviamente possono urtare la sensibilità dei turisti. All'interno delle pagine dell'edizione di Pesaro il San Benedetto cronache dal crollo se la regione non interviene siamo al punto di non ritorno è il sopralluogo che è avvenuto da parte del sindaco Andrea Biancani nell'ex manicomio. A febbraio partiamo con 15 milioni di lavori, la giunta a Quaroli non può far finta di niente altrimenti è a rischio anche la stessa agibilità dei luoghi riqualificati qui Biancani e Pozzi davanti alla desolazione della struttura. La storia del San Benedetto inaugurato nel 1829, una porzione dell'ex ospedale psichiatrico da sempre di proprietà della regione Marche, da qualche mese è stata invece acquistata dal comune per un valore di 1 milione 100 mila euro. Se l'amministrazione comunale in base all'accordo sottoscritto nel 2021 con la regione Last, allora Asur, interverrà su una superficie di 5.775 metri quadrati, la regione dovrebbe fare altrettanto sulla restante parte. L'ex manicomio di corso 12 settembre inaugurato il 1 gennaio 1829 è operato fino alla fine degli anni 70 quando è entrata in vigore la legge Basaglia, tra l'altro da marzo 1872 a novembre dello stesso anno la struttura fu diretta dal criminologo Cesare Lombroso. La sua funzione di manicomio fu interrotta solo durante la seconda guerra mondiale quando il San Benedetto fu utilizzato come ospedale militare, ma dal 1947 tornò ad essere una struttura psichiatrica. Abbiamo voluto fare questo breve excursus proprio per raccontare del San Benedetto anche della storia di questo ex ospedale. Edizione di Pesaro online, anche qui sul Corriere Adriatico, c'è il sopralluogo di Biancani all'ex manicomio e poi la cronaca, lo schianto in moto contro un'auto a Misano, Nicolas Bartolini, muore sul colpo a 26 anni, grave una 19enne, shock a Saludecio, lo schianto poco dopo le 20.30 nella serata di domenica sulla statale 16 a Misano all'altezza dell'intersezione con via Garibaldi a perdere la vita. È stato il ragazzo di 26 anni, Nicolas Bartolini, operaio di Saludecio, che viaggiava in sella a una moto in direzione di Riccione. Con lui c'era la sua ragazza di 19 anni, Aurora, entrambi erano di ritorno a quanto pare dalla spiaggia. Lei è grave, lui purtroppo ha perso la vita in questo incidente. E poi il Rossini Opera Festival, il caso dell'estradizione dal Messico per Ragnetti da tre a sei mesi di agonia, la compagna che lancia un appello fate qualcosa preoccupata per le condizioni di salute del suo compagno. Torno sul resto del Carlino, tutto in diretta sfogliando le pagine interne per quello che riguarda edizione in digitale per andare a Fiorenzuola dove la maxi antenna è stata corretta, è il titolo. Tolto il bombolone, il panorama è quasi salvo. La megastruttura era stata ribattezzata Cotton Fioc, la Iliad ha deciso di smontare la copertura bianca, tanto osteggiata dai residenti. Ieri mattina gli abitanti di Fiorenzuola si sono svegliati con una sorpresa. È sparito il cosiddetto grande bombolone bianco che svettava la sommità della grande antenna della Iliad nel palazzo della Chiesa del Borgo. Una decisione che la compagnia telefonica francese ha preso solamente per questo caso ed anche per una situazione simile che era il cimitero di Misano Monte. Tra i più felici per questa svolta è il presidente della comunità del parco, Massimo D'Angeli, che scrive un bel regalo perché oggi è stato tolto il famigerato cilindro dell'antenna di Focara. Torno indietro sfogliando le pagine, ho intravisto il tema delle mucillagini che sono comparse anche nel mare sulla costa di Pesaro, spiagge semi deserte, un bagnino desolato dice cosa ci sto a fare. Situazione critica sul litorale, Loredana Ceccarelli, titolare di hotel e medico, non sono nocive ma l'immagine che passa è pessima. Qualche turista arriva, vede il mare e riparte anche pagando la penale. Adriatico sotto attacco, dice l'assessore all'ambiente Maria Rosa Conti, occorre attivare immediatamente dall'Europa la Natural Distribution Law, ossia il regolamento per il ripristino degli habitat del territorio europeo. Le alternative, quali sono? Il piano B, i fiumi, dall'acqua sul furea, le gorghe selvagge, il paradiso non è lontano. È la guida che propone il resto del Carlino per chi voglia scappare dall'invasione di alghe sulla costa, ad esempio la cascata della Gorgaccia ad Apecchio, ideale per tuffi e picnic. Il sentiero parte dal centro del paese, poi le piscine naturali dell'Auro. Il canyoning col brivido per i più adrenalinici, la forra del presale sul Monte Nerone. Insomma ci sono tante altre cose da poter fare se si vuole trovare un'alternativa al mare, se preda di mucillagini. Le previsioni del biologo marino, a meno di mareggiate, e la soluzione che rischiamo di tenercele per un altro mese, dice, e poi fare sparare sui fondali delle masse d'acqua dalle vongolare. È una delle idee, delle proposte di Corrado Piccinetti, storico ricercatore di biologia marina di Fano. Vi dicevo delle immagini dal satellite su Repubblica. Abbiamo trovato questa sottolineatura del cambiamento climatico anche nel nostro mare. L'ondata di mucillagine si vede anche dallo spazio. Le immagini sono state catturate dal satellite Sentinel-2, le ha pubblicate sul profilo X dell'Agenzia Europea Copernicus. Le cause della mucillagine sono le alte temperature e le forti precipitazioni. E le forti temperature, soprattutto quelle delle acque, che sono aumentate di 0,4-0,5 gradi di anno in anno fino ad arrivare a una temperatura di 30 gradi. E chiunque di voi in questi giorni sta mettendo piede e corpo all'interno delle acque del nostro mare si sarà accorto che le temperature sono più alte e quindi sono anche diverse rispetto a quelle solite a cui siamo abituati, se siamo dei consuetudinari fruitori delle spiagge marchigiane lungo la costa del nostro mare Adriatico. E quindi ecco perché, ecco le spiegazioni, ecco le cause di questa fioritura algale. Non tossica, ma sicuramente l'immagine che ne deriva non è delle migliori. Concludiamo per un attimo con l'edizione, o meglio con la notizia di Ascoli che dovevamo sul Corriere Adriatico Online. Barche ferme fino a fine settembre, questo è il tema della pesca. Addio alla fioritura dell'Adriatico. Ricci che dice che quest'anno ci toccheranno ulteriori 15 giorni di stop. Domani, ultimo giorno di pesca, poi si tireranno i remi in barca fino al prossimo 29 settembre. Alla vigilia del fermo pesca rimangono le incognite per un settore sempre più in crisi e alle prese con tante problematiche che quest'anno dovrà fare i conti anche con due settimane in più di blocco della pesca. La marineria San Benedettese si prepara al fermo che avrà ulteriori 15 giorni di sosta, ma l'umore palpabile, soprattutto perché i prossimi incassi arriveranno solo alla fine di ottobre mentre gli indennizi si fanno attendere. Basti pensare che ancora si attendono le liquidazioni per le annualità 2022 e 2023. Quest'anno abbiamo anche 15 giorni di stop in più, afferma Pietro Ricci, presidente dell'organizzazione produttori marineria San Benedettese, significherà non avere alcuna entrata fino alla fine di ottobre e speriamo che siano accelerati i tempi sugli indennizi degli anni passati. Le mucillagini influiscono inevitabilmente anche sul settore della pesca, oltre che sul turismo, un settore della pesca che adesso si prepara anche allo stop della propria attività e quindi attende indennizi anche di annate scorse e soprattutto dovrà attendere fino a ottobre per ricominciare a far guadagni e a far girare nuovamente il suo business. Sono le 9.29, siamo in chiusura di questa nuova mattinata che abbiamo vissuto insieme, come sempre all'insegna delle notizie, ma non solo. E allora gli appuntamenti, intanto con le edizioni dei telegiornali nella giornata di oggi su Etv Marche e Canale 12, domani appuntamento dalle 7 del mattino con la rassegna stampa di Buongiorno Etv, Canale 12 certo, contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, pagina Facebook e app di Etv Marche, soprattutto le notizie per restare aggiornati sono sempre, le trovate come sempre da consultare, Canale 12, sito internet e pagina Facebook. Grazie per l'accompagnia, appuntamento a domani, l'augurio di una buona giornata con i programmi di Etv Marche. Arrivederci. Soldi, eh ma quanto spende, eh ma quanto incassa per Sule, gli altri invece possono fare un po' quello che pare loro e nessuno dice niente. Questo mi sembra abbastanza chiaro, non è che sia una cosa che ci inventiamo noi adesso, Roberto. Sì, che la Juve in Italia sia il centro dell'attenzione mediatica, non lo scopriamo certo oggi e di conseguenza tutto il resto. E sul giocatore invece, che Pubile, ma quello mi dà da pensare anche a me. È strana questa cosa comunque. È molto strana. Fino all'altro ieri ha giocato le Olimpiadi e oggi non passa le visite mediche. C'è qualcosa che non quadra di sicuro o da una parte o dall'altra. Vedremo, se approfondiranno questa, se fosse stato un giocatore della Juve avrebbero già diciamo le troupe che studiano la vita privata di Pubile. Invece, essendo un giocatore che interessa l'Atalanta, con calma, qualcuno farà qualche verifica probabilmente. Tra l'altro Atalanta che ha fatto l'offerta per O'Reley che dovrebbe essere il giocatore che va a sostituire Copmeiner da quello che capisco nell'organico della Dea e quindi vediamo cosa sarà naturalmente da questo punto di vista perché un arrivo potrebbe facilitare l'eventuale partenza anche se ribadisco, caro Roberto, e so che tu sei anche di questa idea che l'Atalanta non è obbligata a vendere Copmeiner quindi se la Juve non si avvicina quasi al 100% a quello che chiede l'Atalanta se lo può scordare. Ma penso che questo l'abbiamo detto fin dall'inizio che alla fine se questo affare andrà in porto se sarà comunque le cifre che voleva l'Atalanta milioni in più, milioni in meno ma questo non lo diciamo oggi ma penso che l'abbiamo detto già da un mese a questa parte o due perché? Perché l'Atalanta ti ha fatto capire subito come stavano le cose cioè non è che ci ha girato intorno e prima ti ha detto non lo vendiamo e se eventualmente lo vendiamo hanno fatto circolare che la cifra era quella e quindi se non saranno 60 milioni saranno 55 ma comunque si arriverà lì sempre che l'affare andrà in porto perché io a questo punto sono ben prudente su tutto. E appunto poi qua abbiamo l'esperienza insegna insomma che le novele estive a volte cioè quasi sempre poi sfumano con la fine del mercato vediamo se questa è l'eccezione che conferma la Revit Hai visto l'affare Todibò che anche tanti esperti i nostri colleghi di mercato davano già fatto e finito invece invece com'è finita appunto il delegativo Che è arrivato uno con la valigetta di 40 milioni e se l'è preso perché ripeto non è più il tempo che la Juve mi serve fa 80 milioni vengo e te li do mi serve Ronaldo fa 100 milioni vengo e te li do mi serve Higuain fa 90 milioni vengo e te li do è finita quell'epoca lì quindi adesso bisogna inventarsi delle formule creative oppure hai un budget limitato che dici il nostro budget è questo se ci venite incontro bene e se no tenete non è che puoi fare tanto non è che puoi andare lì più che a vedere anche con Miners che dalla parte sua forza un po' la mano ma poi tra l'altro adesso sarà una stupidaggine ma mica tanto ti mancherò anche i soldi dello sponsor eh che tra l'altro lì è un'altra vicenda che qualcuno ci chiedeva prima tra 15-20 milioni ma insomma sono soldi e tu con quello chissà cosa potevi farci diversamente da questo mercato invece non hai neanche quelli e c'è chi sottolineava anche questa vicenda che ho letto qua e là però non ci sono notizie ufficiali per cui sarebbe stata addirittura la presidente del consiglio a bloccare Ita Airways sponsor della Juve allora su questo non ci sono conferme però diciamo che se non è vera la notizia è comunque verosimile è verosimile proprio perché è un'azienda comunque in cui ancora lo Stato ha il suo peso sappiamo i rapporti tra questo governo italiano e la Stellantis spessi Sì John Elkan in particolare non la Juventus la persona imprenditore diciamo non padrone della Juve e quindi se non è vera comunque verosimile secondo me eh vabbè qualcuno si è esposto e l'ha detto diciamo avrà avuto le sue fonti naturalmente il governo non ha detto nulla quindi aspettiamo se poi il governo dirà qualcosa la Presidente del Consiglio oppure no intanto ti ringrazio Roberto ci risentiamo prossimamente sempre su questi schermi ciao a presto e buon ferragno